un po' di palo, prendetevi un applauso che meditate, il pubblico è andato in visibilio a un certo punto ho sentito trick track, trick track, boom 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 perché insomma le persone hanno cominciato a ballare, questo signore là faccia one two one, quell'altro signore là con giù più di meno, wall boys wall boys, è successo di tutto, grazie a voi grandi professionisti allora bene mia mamma mia che è successo? oh, adesso è scemo, no? che è successo? i cani, i cani miei, i cani miei i cani, dove sono sti cani? dobbiamo pulire, dobbiamo pulire tutto, dobbiamo sistemare ma tu sei impazzita, perché dobbiamo sistemare? muon, sentito, dammi una barra insomma a paletti, sistemiamo ma che è successo? sì, sì, sì ma chi è scemo? ma chi verrà? verrà sabato prossimo ma chi? lui? lui chi è? eduardo maccaronceno ma vieni da andate per piacere tu eduardo maccaronceno ma vieni da andate per piacere tu eduardo scusami ma cammina tu, cammina tu ma che non devo fare? no, io mi devo scopare cioè, devo pulire qua per terra ma che... no, ma... te la rompo in testa? ma chi non va? ma chiamare, si vedeci aria 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 il paesco di seconda è Kuntufo ma io non lo so ma c'è un psicologo guarda, stai colpendo questa zona parlando di pubblicità giorni preziosi Scusate, ma che state combinando? Posite? Stai sporcando tutto La scopa No, aspetta, a una cosa Sai sulla scopa e vai 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 Io me ne vado Mi sta sporcando tutto il palco Sabato prossimo